Seconda edizione della camminata in rosso ad Arezzo organizzata dall'Associazione Nazionale Senza Veli Sulla Lingua per dire basta alla violenza sulle donne. Una iniziativa che ha avuto il patrocinio del comune di Arezzo partita dal Duomo in una domenica mattina il 19 novembre in cui risuonavano due notizie. Il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, l'ennesimo femminicidio in Italia, è il no della Corte alla richiesta, nella seconda udienza del processo, di una perizia psichiatrica per Jawadisham, il 38enne che ad aprile aveva ucciso compagna e suocera a coltellate. La decisione della Corte nei confronti di Jawadisham, commenta Patrizia Ascotto di Santolo, vicepresidente dell'Associazione Senza Veli Sulla Lingua, significa che ha valutato senza ombra di dubbio il gesto criminale di chi voleva deliberatamente uccidere. È quindi giusto che venga giudicato senza possibilità di appiglie o scorciatoie. Su questo si esprime anche l'Associazione Pronto Donna, a margine della presentazione delle iniziative che porteranno al 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Quanto sarebbe stata pericolosa una perizia psichiatrica in un caso come qui? È legittimante e distorcente del fenomeno, quando poi in realtà le valutazioni psichiatriche vengono fatte agli autori dei femminicidi a posteriori, quindi quando già sono in carcere, sono condannati e dimostrano che non è un problema psichiatrico. È un problema culturale e se noi non mettiamo questa lente nel guardare il fenomeno svilupperemo sempre degli interventi inadeguati, non leggeremo il fenomeno fino in fondo e non interveremo nel modo adeguato.